Artista. Le hai chiesto almeno il suo nome? Mi pare si chiami Lisa. Inventore. Tieni di porte, Lorenzo! Si vola! Sì, Leo! Ce l'abbiamo fatta! Oh no! Quasi fatta! Ma prima di tutto, un ragazzo che si diverte con i suoi amici. C'è fumo laggiore. Ma lì c'è casa mia! Lisa è nei guai. Dobbiamo aiutarla. Andiamo a cercare il tesoro. Leonardo da Vinci, portatemelo qui. Fuoco! Catturate anche Leo! Sei finito! E lui chi è? Si chiama Niccolò e con questo coso osserva le stelle. Li baghiamo, ci guardiamo, ridiamo e ci fermiamo. E poi si sta sulla bocca, poi mi blocca e non ti amo. E quando ti ho vicino e per il tempo intorno Solverci tutto quello che... Volo! Sì, ce l'ho fatta! Leo da Vinci. Missione Mona Lisa. Dall'11 gennaio al cinema. Medici all film. E allora! Ciao! Di soli, te amo! E io non ti amo! Quo' tue 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 tue. Grazie a tutti